Anche in questa seconda ondata gli infermieri stanno dando tutto. Stanno dando tutto il loro tempo, tutta la loro attenzione, la loro abnegazione. Cercano di essere presenti anche con i doppi turni, saltando i riposi, qualche volta non riuscendo neppure ad usare il bagno per le proprie necessità fisiologiche. Questa è la vera spina dorsale del nostro sistema sanitario nazionale, fatto sì di tecnologia ma soprattutto di risorse umane e di professionisti sanitari che stanno dando il massimo per poter affrontare questa pandemia. È riconfermato Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno, Luigi Paes dei Mori, al suo quarto mandato ormai, a fare il punto sull'attività condotta dagli infermieri bellunesi in questo tempo di pandemia e sulle condizioni di lavoro difficili che, come tutti i professionisti del sistema sanitario, a causa dell'emergenza pandemica, spesso si trovano ad affrontare. Meno di 2.000 sono gli iscritti attuali all'Ordine bellunese, un territorio che, come altri, soffre per la mancanza di un numero adeguato di professionisti. Gli infermieri sono pochi e i bandi di reclutamento non saranno necessari a soddisfare l'esigenza che sta arrivando perché le politiche di formazione sono state completamente sbagliate nell'ultimo decennio, basate sul ricambio fisiologico del turnover del personale, senza pensare allo sviluppo di nuovi modelli di cure e di assistenza, cosa che il nostro sistema ha assolutamente bisogno, ora più che mai. Non possiamo pensare che all'interno dello stesso territorio le persone non abbiano gli stessi diritti di cura, le stesse possibilità di cura. Per questo servono nuovi modelli assistenziali, servono più infermieri, le politiche formative devono essere completamente riviste, si deve costruire un nuovo modello di assistenza territoriale, basata primariamente sulla prossimità, sulla vicinanza al cittadino.